E' stata una notte di super lavoro per ANAS, operai del comune di Ariano e protezione civile. La tempesta di neve aveva messo subito in allarme la città. Queste immagini sono state girate poco dopo la mezzanotte. Chiusi i caselli autostradali di Lacedonia, Vallata, Grotta Minarda, Benevento fino a Baiano nella notte, la società autostrade è scesa subito in campo con tutti gli uomini e mezzi a disposizione. Grazie a tutti. Tir in sosta in alcune piazzole a Grotta Minarda in attesa della riapertura dei caselli. Qui siamo nella zona cimitero. Si è lavorato fino all'alba per assicurare la transitabilità di auto e mezzi pubblici lungo le principali arterie ad Ariano Irpino, a partire dalla statale 90 delle Puglie. Nessuna difficoltà a Grotta Minarda. Da qui siamo lungo il corso, scuole regolarmente aperte ad Ariano. Non è stata ravvisata la necessità di mettere alcuna ordinanza da parte del sindaco Antonio Mainiero. Il Tricolle questa mattina si è svegliato così. Neve di marzo clemente, accompagnata dal sole e da un panorama tutto da ammirare. Il Tricolle questa mattina si è svegliato. Il Tricolle questa mattina. Grazie a tutti.